Predi, sacerdoti, padri, don, monsignori. Rispetto agli altri sacramenti, il sacramento dell'ordine è particolare. La differenza deve essere parroco, essere vescovo. La parrocchia è diventata molto più grande. Anch'io sono stato educato in quella direzione, non ho avuto, diciamo, il talento di diventare prete. Il Papa è servo dei servi di Dio. Se Dio è con noi, di che cosa dobbiamo avere paura? I Magnifici 7, domenica alle 12.50.